Santo mistero di luce, di grazia, che ci dischiudi la strada del cielo, vittima sacra, vedo di salvezza, e dalla chiesa ti canta il Dio dono. Siamo con padre Nicola Gai, dove ci troviamo e per che cosa? Dunque qui siamo nella piazza di San Marcellino, davanti alla chiesa di San Marcellino, che è la sede dell'Associazione San Marcellino, che ha delle attività ormai da più di 70 anni a favore delle persone più in difficoltà. Nei primi anni era piuttosto a favore degli sfollati del dopoguerra, poi negli anni 60 per favorire, per aiutare, per cercare l'inserimento delle famiglie che arrivavano dal sud, dall'85 di più ci occupiamo di persone senza dimora. Diversi sono i centri? Sì, noi abbiamo, dunque quello che noi cerchiamo di fare è non tanto dare un postoletto, che è pure molto importante o quant'altro, ma piuttosto di aiutare le persone a riprendere dignità. Questo è il punto centrale, per cui ci siamo andati poco alla volta organizzando, anche attraverso delle riflessioni, dei confronti con gli altri, per strutturare una modalità che venga incontro ai bisogni di queste persone, ma più che altro per aiutarle a riprendere dignità nella loro vita. Intanto questa mattina ci sono le visite, vediamo lì vicino al centro di ascolto, che stanno appunto raccontando questa storia. Esatto, abbiamo la visita di alcuni del congresso eucaristico, questo ci fa molto piacere, sono qui anche proprio per questo motivo, e questo permette di far vedere quello che si fa nell'opera della carità, che sono così collegate proprio all'eucaristia, al concretizzarsi della presenza del Signore, che è estremamente importante per i cristiani. Ieri sera nell'Omelia su Eminenza diceva operai del Vangelo. Esatto, io credo che sia un aspetto davvero molto importante, perché non può esserci un Vangelo, come anche appunto diceva nell'Omelia ieri il Cardinale, non può esserci un Vangelo che non ha incarnato, che in qualche modo non è concretizzato attraverso dei gesti, un'attenzione, anche il Papa nel momento in cui ha raccolto tutti gli operatori di carità, diceva che non ci si può permettere di fare come hanno fatto coloro che non hanno aiutato il viandante, trovato il samaritano, il viandante trovato in mezzo alla strada, noi non possiamo voltarci dall'altro. Allora essere cristiani significa anche proprio concretizzare questa attenzione agli altri. Adesso, Padre Nicola, lasciamo la Chiesa San Marcellino, la piazza, la piazzetta qua, e ci possiamo entrare dentro. Ecco, forse entreremo dentro prima al centro di ascolto, che è il luogo dove le persone vengono a chiedere aiuto, e dove inizia una relazione, perché il nostro... Quanto possiamo... è questa porta, possiamo darci insieme? Direi di sì, sta chiudendo, quindi non troveremo delle persone, se non appunto le persone che vengono a visitare questa associazione, e sono i locali nei quali le persone che vengono a chiedere aiuto possono trovare una porta aperta, la porta è anche proprio un po' un nostro simbolo, che permette loro di avere qualcuno con cui parlare. Perché dicevo, l'aspetto più fondamentale delle difficoltà di queste persone è di relazione, non hanno più legami con nessuno, e sono sfiduciati e non hanno più speranza. Allora, il trovare qualcuno con cui rientrare in contatto, poco alla volta, attraverso anche i servizi, le aiuta a avere più fiducia e riprendere una dignità nella propria vita. Oggi sono tante le persone che si rivolgono con queste problematiche. Dunque, noi ormai negli ultimi anni abbiamo 650 persone che vengono, sono di fatto tutti italiani, perché il lavoro che noi facciamo è proprio di rieducazione, per cui se vengono persone che hanno problematiche legate a delle dipendenze, alla tossicodipendenza, così noi non siamo così capaci di aiutarli, e quindi li inviamo ad altre strutture, se vengono stranieri anche, perché di fatto ciò di cui loro hanno bisogno è diverso da quello che noi siamo in grado di offrire. Quindi abbiamo circa 650 italiani che vengono e il numero è dato dalla nostra capienza. Cioè noi ormai da alcuni anni non siamo in grado di accoglierne di più, anche se ce ne sono di più, e li vediamo anche nel servizio che abbiamo, notturno, è un pulmino, gira due volte alla settimana, sono aumentate molto le persone che sono per strada, noi non siamo in grado di accoglierne e aiutarne un numero maggiore. Ecco, in base alla sua esperienza tutti questi anni, secondo lei, proprio questa difficoltà che incontrate nelle persone a rapportarsi, a avere delle relazioni, appunto a essere ascoltati, come mai secondo lei? Eh, questo è un po' un frutto del nostro modo di vivere. Noi in qualche modo raccogliamo qui delle persone che hanno, assommano una serie di difficoltà che nella nostra società sono sempre più grandi. Faccio degli esempi. È molto difficile ormai riuscire a tenere delle relazioni durature. Non è facile tenere il lavoro. A volte capita di avere delle malattie, a volte ci si trova in famiglie che non sono nella capacità di poter offrire una formazione e così via. Se noi pensiamo quanti quintali, tonnellate di psicofarmaci gli italiani assumono, vuol dire che non è proprio una cosa così facile avere delle buone relazioni, una vita serena. Allora, le persone che finiscono per strada sono quelle che di queste difficoltà ne hanno incontrata non una, ma tre o quattro o cinque, dunque non ce la fanno più. e allora finiscono con non avere più relazioni con nessuno e c'è bisogno di tutto un lavoro e di una vicinanza molto particolare con loro perché altrimenti rischiano proprio di non riuscire a riprendere dignità. Qual è il tuo ruolo? Io all'interno dell'associazione mi occupo di coordinare tutti quei settori che danno un posto letto, diciamo così, per le persone. un posto letto che nasce da un progetto stavamo spiegando questo ambiente qua che è il centro di ascolto è un progetto nato con le persone nel tempo teso a dare poi risposte di tipo anche all'oggettivo e quindi vuol dire o dormitori o comunità o appartamenti singoli fino ad arrivare a una piena autonomia case popolari piuttosto che case in affitto eccetera. Quindi io poi coordino tutto questo percorso di inserimento in casa. Si può dire qualcosa sui numeri? Ma allora dicevamo prima che qui accogliamo sulle 650 persone all'anno con un giro di persone di 15.000-16.000 contatti quindi queste persone vengono anche molte volte più spesso di queste diciamo che un centinaio sono quelle su cui noi lavoriamo in maniera progettuale in cui riusciamo a portarli a forme di autonomia diciamo maggiori di quelle con cui sono arrivati. Ecco qua in questi locali è proprio il primo centro insomma la prima porta dove uno busta per essere ascoltato. Sì sì è l'unica dicevo l'unica porta aperta a tutti dell'associazione nel senso che questa è una porta aperta quattro mattine alla settimana le persone chiunque può entrare qua dentro poi ad alcuni vengono inviati ad altri servizi perché noi non possiamo fare tutto quindi facciamo solo un tipo di servizio sulle persone senza dimora se vengono persone straniere vengono indirizzate verso i centri che si occupano in stranieri piuttosto che tossicodipendenze verso i centri per la tossicodipendenza però al primo centro di persone che si rivolgono a noi e che vengono poi filtrate e smistate su cui si può iniziare a fare un progetto. Usciamo dal centro di ascolto padre Nicola abbiamo conosciuto Federico che è uno dei credo tanti operatori perché parlavi di numeri 650 in quanti siete a gestire? Sono quasi 30 operatori anche se molti a tempo parziale e poi ci sono circa poco meno di 300 volontari oltre ad altri 250-300 volontari che fanno servizio in tre mense di tre parrocchie che sono collegate a San Marcellino e quindi è un numero molto grosso di volontari ed è per noi una cosa estremamente importante perché è molto importante proprio per le persone incontrare altre cittadini che come loro possono vivere assieme dei momenti e quindi essere aiutati e proprio reinserirsi diciamo a riprendere dignità. Cioè a queste persone avete anche un supporto quotidiano con la mensa? Alcuni possono usufruire delle mense che sono queste delle parrocchiali e altri invece trovano poi la possibilità di fare la cena nelle accoglienze notturne altri ancora usufruiscono di mense che sono presenti nella città ecco da altri. Ecco ci spostiamo insieme ad Alessandro e da questa parte è il centro entriamo nel centro diurno è il centro diurno che permette alle persone di avere un posto dove stare un po' protetti durante la mattina come pure il servizio molto importante è quello delle docce della possibilità di farsi lavare i vestiti e poi altre cose di cui può parlare Michela che è la responsabile di questo servizio. Allora conosciamo e salutiamo Michela responsabile del centro diurno Il centro diurno è un centro di servizi in cui la gente accede direttamente dalla strada quindi è un centro di pronta accoglienza è un centro in cui le persone vengono possono ricevere una bevanda calda anche nel periodo invernale quindi quando c'è freddo e fuori piove possono star qui la mattina in modo da passare due ore al caldo possono utilizzare un servizio docce un servizio lavanderia due giorni alla settimana un taglio capelli un giorno alla settimana un servizio guardaroba e ricevere un servizio di un completo di intimo in modo da potersi cambiare adeguatamente è un servizio che vede passare parecchie persone e anche in alcuni periodi dell'anno anche un centinaio di persone possono accedere qui persone che hanno un progetto avviato con il nostro centro o anche persone che arrivano direttamente dalla strada che quindi possono senza dover iniziare a fare colloqui o ad avere rapporti un pochino più diciamo più intensi con il nostro centro d'ascolto ma solo ed esclusivamente per ricevere quello di cui hanno bisogno Ecco Michele a livello personale cosa incide per la sua vita questa esperienza, questo lavoro non so se è volontariato Allora è un lavoro è un lavoro che io faccio da 12 anni ed è un lavoro che effettivamente ti dà molto molto, sicuramente molto più a livello personale che a livello economico nel senso che è un lavoro che ti costruisce anche come persona quindi la relazione con le persone il modo di rapportarsi il capire quello che le persone si aspettano da te e quello che tu devi dare alle persone capire i limiti e capire il momento giusto in cui loro si avvicinano o si allontanano e rispettarlo soprattutto Chissà quante storie Tantissime Tantissime di ogni genere da quelle che purtroppo finiscono non positivamente a quelle che invece piano piano vedi costruirsi piano piano appunto come sto dicendo ma è svolgere poi in maniera positiva C'è una storia di riferimento che insomma dà luce e sostegno per altre difficoltà? Ce ne sono tantissime dalle persone che abbiamo visto in difficoltà per numerosi anni e poi riescono a ristabilirsi ad avere una casa e quindi a ripartire sempre con l'attenzione nostra nei loro confronti e loro nei nostri diciamo perché sono seguite anche quando poi ricevono la casa magari dall'arte oppure piano piano incominciano un percorso a livello di educazione al lavoro ce ne sono tantissime Padre Nicola insomma le esperienze ce ne sono tante anche per anche per lei insomma il riferimento di tutto sia chi viene ma anche si parlava di 300 persone insomma credo che ci sia un mondo di rapporti Sì esatto questa è una delle cose belle un po' come diceva Michela il vedere che molte persone utilizzano di fatto in modo molto positivo questi servizi queste possibilità che hanno qui siamo a livello che noi chiamiamo di pronta accoglienza poi ci sono delle accoglienze invece che prevedono un maggior legame con noi e proprio il vedere crescere queste persone è quello che incoraggia anche nei momenti di fatica e di difficoltà questo mi sembra un punto molto importante e certamente anche la ricchezza di tanti volontari con i quali ci si incontra si riflette ci sono i momenti di formazione di scambio sono momenti belli che incoraggiano ad andare avanti di fronte delle difficoltà sempre più grosse perché uno degli aspetti più faticosi è che la sensibilità sociale va diminuendo allora se uno va a guardare le spese in questo ambito gli investimenti in questo ambito dello Stato della Regione del Comune vedrà che negli ultimi anni sono diminuiti a fronte dell'aumento delle esigenze e questo è un problema molto serio io faccio purtroppo un esempio da molti anni se una persona non può lavorare lo Stato italiano dice non ti preoccupare c'è la possibilità di avere la pensione la pensione per invalido il problema che è la pensione di invalidità di 280 euro era 500 mila lire nell'85 quando io ho iniziato poi ho fatto altro ma allora con 500 mila lire si riusciva a trovare una stanza e abitare con 280 euro non si è in grado se non di abitare per strada questo è un problema che non è loro ma è nostro e questo è uno degli aspetti sui quali anche noi cerchiamo di lavorare perché altrimenti avremo sempre di più persone in difficoltà che alla fine fanno star male tutti perché diventa cresce una insicurezza un'impressione di non essere sicuri dove si vive che è a danno di tutti allora a volte con degli investimenti pensati e piccoli si vivrebbe tutti meglio questo è uno dei problemi grossi della nostra società in questa direzione potete essere anche stimolatori a livello governativo sì nel nostro piccolo cerchiamo di farlo senz'altro anche attraverso degli studi delle riflessioni delle ricerche che dimostrano ad esempio che piccoli investimenti per aiutare le persone a smettere di bere significano dei risparmi molto grandi per gli ospedali per le carceri per i danni che vengono fatti e ancora di più proprio per questa impressione di andare verso una situazione socialmente sempre peggiore che forse non è neppure vero ma basterebbe a volte poco per veramente migliorare la situazione su questo noi insistiamo molto anche attraverso l'esperienza dei volontari attraverso gli incontri a livello col comune con l'ente pubblico proprio per sottolineare queste dimensioni qua compadre Nicola stiamo vedendo la lanterna siamo scesi giù in via Gramsci e qua abbiamo il centro diurno la svolta che cosa fate? dunque come accennavo precedentemente per aiutare le persone a riprendere dignità c'è bisogno di aiutarle un po' in tutti gli aspetti della vita che vanno dal mangiare dal prendersi cura di sé lavarsi poi abbiamo delle accoglienze notturne delle comunità e così via della rieducazione dei laboratori di rieducazione al lavoro ma anche un aspetto importante è proprio il tempo libero allora qui la svolta è una specie di circolo o un bar potremmo chiamarlo pomeridiano è aperto tutti i pomeriggi dalle 3 alle 6 dove ci si può stare ci si può divertire si è protetti dall'alcol si è in compagnia c'è la possibilità di fare dei tornei di fare delle cose e dunque di passare bene il proprio tempo legato un po' a questo ma anche ad altro ci sono anche dei laboratori che ultimamente sono andati crescendo che sono tali che aiutano laboratori artistici che aiutano le persone a dare di nuovo spazio a delle cose belle per esempio il disegnare recitare o comporre o condividere poesie come pure il suonare dunque siamo arrivati anche a aver la possibilità di stampare di un bel libro di poesie piuttosto che un cd dove sono registrate i canti del motu perpetuo così si chiama il gruppo e questo permette di ridare un gusto alla vita perché la vita non è fatta soltanto di mangiare e dormire e curarsi ma è anche di relazione di cose belle che piacciono quindi in questo senso la svolta è un momento importante che poi sta assieme a delle attività che facciamo una volta al mese così delle gite varie le vacanze che facciamo d'estate ma è questo aspetto fondamentale facciamo un piccolo giro insieme con piacere siamo saliti qua c'è un bel clima si vede anche se oggi le persone non ci sono in queste ore ma c'è vivacità sì senz'altro il locale lo evidenzia perché c'è una parte bar ci sono dei disegni ci sono degli appuntamenti ci sono dei ricordi che sono rimasti in occasione di feste di incontri è certamente un ambiente molto bello che permette a molte persone di passare in modo piacevole il tempo al pomeriggio alcuni sono magari già in pensione ma anche sono quelli giovani che devono ancora meglio trovare una diciamo collocazione in questo mondo ma che cominciano a gustare un po' di più la vita e avere la percezione che si può vivere bene diversamente da come magari stanno vivendo o hanno vissuto nell'ultimo periodo abbandonate se stessi e soli e quindi molto più tristi rispetto alla gradevolezza anche di ambienti e di vicinanza come questa abbiamo anche i giochi abbiamo visto la damma gli scacchi il calcetto insomma esatto ci sono anche dei tornei che vengono fatti di carte e così via un po' legato a questo c'è la possibilità anche di abbiamo la Sampdoria e il Genoa che ci hanno regalato alcuni posti allora ogni volta c'è la possibilità che qualcuno vada a vedere la partita ecco sono tante piccole cose si fanno delle partite di calcio fatte assieme a volte anche nel seminario insomma c'è tutta una serie di attività che appunto danno gusto alla vita avete curato e stato curando tante piccole cose che poi alla fine sono tutte importanti esatto perché aiutare una persona a riprendere dignità significa aiutarle un po' tutti i settori della propria vita che vanno dalla capacità di prendersi cura di sé ad avere la possibilità di un posto dove vivere dove alloggiare ad avere la possibilità di avere delle entrate quindi un lavoro un riconoscimento di una pensione se c'è appunto la possibilità insomma in qualche modo le relazioni con gli altri e questo è un aspetto estremamente importante solo in questo modo si può proprio vedere come delle persone crescono poco alla volta e nel giro di mesi se non di anni come spesso accade veramente cambiare la loro vita ecco l'operatore è salito Alessandro il suo piano di sopra cosa abbiamo? sì il piano di sopra abbiamo delle cose varie allora c'è un biliardo che permette appunto di giocare a biliardo c'è da quest'altra parte anche una postazione col computer che per esempio una delle cose che fa è di dare la possibilità di preparare un curriculum a delle persone piuttosto che accedere a internet per vedere delle offerte di lavoro o comunque altre cose e c'è una notevole varie ci sono dei libri molti leggono e quindi questo è qualcosa che permette loro appunto di continuare a crescere in questo contesto allora padre Nicola ci avviamo ai saluti anche perché da raccontare penso che da quando è nato questo centro? di per sé è nato alla fine della guerra quindi abbiamo festeggiato l'anno scorso i 70 anni in un primo periodo c'era l'attività legata piuttosto agli sfollati del dopoguerra poi successivamente c'è stato un aiuto alle famiglie che dal sud venivano a Genova per trovare lavoro e dall'85 87 abbiamo cominciato di più a concentrare la nostra attenzione su questo fenomeno dei senza dimora che purtroppo è in crescita e evidenzia il disagio della società così come i profughi evidenziano il disagio dell'insieme della ingiustizia mondiale e questi evidenziano le ingiustizie che sono presenti anche in paesi come il nostro estremamente ricco bene grazie padre Nicola di questa testimonianza un saluto a tutti i volontari soprattutto che insomma sono tantissimi 300 mi diceva esatto sì sì è una delle nostre forze perché significa proprio la percezione di una utilità di quello che facciamo abbiamo molti volontari che fanno volontariato ormai da più di 30 anni e questo ci conforta molto è veramente una delle spinte che riconosciamo come espressione proprio di un lavoro interessante chi volesse dare una mano dunque sul sito trova sanmarcellino.it scritto tutto attaccato trova tutte le possibilità per interessarsi fare un'offerta trovare una documentazione di quello che noi facciamo sanmarcellino.it di Grazie a tutti.